Buongiorno e benvenuti a 10 minuti di introduciamo il tema di oggi con una domanda un pizzico provocatoria si può essere dei buoni cittadini delle persone oneste leali con gli altri solidali si può insomma avere una propria morale una propria etica escludendo però dal proprio orizzonte personale il concetto di dio a dirsene convinti sono gli oltre 4 mila membri italiani del luar l'unione atei agnostici razionalisti un sodalizio che dal 1986 si batte appunto per il concetto di una morale avulsa da qualsiasi credo religioso a parlare di questo oggi sono con noi raffaele carcano segretario del luar buongiorno buongiorno e benvenuto e adele orioli responsabile delle iniziative legali e dell'associazione benvenuta anche lei bene prima della nostra chiacchierata noi vi proponiamo un contributo video che ci ha portato luar con la testimonianza di un illustre scienziata che è anche come è noto atea militante margherita acc sentiamo spesso ci si sente domandare ma qual è l'etica ad un ateo l'ateo ha un'etica certamente l'ateo forse è più morale di un credente che si comporta bene perché crede nel paradiso o nel nell'inferno quindi noi non ci aspettiamo ricompense nell'aldilà o punizioni nell'aldilà non crediamo nell'aldilà ma uno agisce secondo la propria coscienza credenza nel rispetto di tutti gli altri questo vuol dire essere atei vuol dire non credere ma non pretendere di imporre le proprie non credenze agli altri rispetto di tutte le fedi e le non fedi dunque chiaro il messaggio dell'ah rispetto per tutte le fedi ma anche rispetto per chi non crede allora carcano quali sono in sintesi i capisaldi della vostra etica laica l'uar non è una chiesa e non è una religione mentre le religioni hanno delle visioni da proporre ai loro fedeli noi ovviamente non siamo nella stessa situazione non abbiamo da consigliare o per di più imporre un'etica gli atei e gli agnostici sono persone abituate a formarsi una propria visione etica del mondo da soli e il principale caposaldo su cui la formano è la libertà di scelta quindi la possibilità di decidere in autonomia sulle grandi questioni della vita questo è il fondamentale caposaldo da cui nasce poi tutto il corollario successivo quindi l'etica della responsabilità per esempio l'altruismo la possibilità di conoscere di informarsi di fare scelte logiche e razionali appunto in completa autonomia quindi in base a decisioni prese individualmente la nostra funzione in fondo è solamente quella di dare strumenti da questo punto di vista le persone che vogliono diciamo così costruirsi un'etica sempre più consapevole al momento di fare le proprie scelte decisive nel corso della propria vita Orioli dal punto di vista delle ricadute concrete quali sono i punti di frizione più forte con una morale di tipo confessionale non so sulla famiglia sulla morale sessuale sulla bioetica o su che altro beh la libertà di scelta in ordine la propria vita quindi la libertà di autodeterminazione come dicevamo dei non credenti in italia è costantemente compressa se non addirittura negata e si potrebbe dire purtroppo non è una battuta dalla nascita alla morte pensiamo ai continui attacchi alla legge 194 sull'interruzione di gravidanza pensiamo alla nuova legge sulla procreazione medica assistita la legge 40 pensiamo all'invenzione ex novo è assolutamente non legale dell'obiezione di coscienza per i farmacisti addirittura per la pillola del giorno dopo o il tortuosissimo percorso che da noi ha avuto la ru 486 ma andiamo avanti pensiamo alla scuola dove un'ora definita facoltativa come quella di religione cattolica presente in ogni ordine grado e peraltro alle primarie in più ore settimanali diventa impossibile addirittura da non frequentare l'ora alternativa infatti è attivata in pochissimi istituti e con moltissime difficoltà e addirittura l'ora di religione concorre come sappiamo a formare i crediti finali credito scolastico per la maturità e andando avanti pensiamo sul luogo di lavoro a tantissime messe atti e luoghi in luoghi non autorizzati luoghi pubblici dove però invece avvengono riti in continuazione e per andare sempre ancora oltre arriviamo appunto alle delicatissime tematiche in discussione anche questi giorni a proposito delle scelte di fine vita e a proposito anche del cosiddetto testamento biologico ha dimenticato un passato sempre a proposito sulla libertà di scelta di noi non credenti in italia non c'è alcun riconoscimento giuridico per le coppie di fatto bene a questo punto abbiamo un secondo contributo video proposto dall'UAR si tratta stavolta del filosofo e matematico giulio giorello è uno stralcio di un suo intervento al convegno internazionale che l'UAR ha organizzato il mese scorso a genova un convegno dal titolo in un mondo senza dio sentiamo è possibile un'etica senza dio si può essere persone degne o morali senza inginocchiarsi di fronte a un qualche dio poi quale appunto quale ce n'è parecchi dice ma sono sempre lo stesso mica vero calma su questo perché può darsi che in profondo sia sempre lo stesso bisogno di divinità che emerge ma in nome di come sono stati declinati di in passato e anche adesso questo questi bisogni di divino sono venute fuori guerre di religione oceano di sangue stupidità violenze superstizione non è una polemica contro le religioni non è una polemica contro le singole chiese è una polemica contro le pretese che debordano dal cortile di queste chiese che pretendono in un qualche modo che la società civile venga normata da questa o quella religione ed è talmente e tanto assurdo quanto pensare che la ricerca scientifica sia normata da questa o da quella religione quindi direi liberazione dell'etica e autonomia della ricerca scientifica vanno mano nella mano questa è la mia tesi di fondo quante volte noi leggiamo anche da parte di religiosi molto aperti intelligenti che ci dicono sia gli atei con quella privativo hanno qualcosa di meno sono cittadini un po' di serie b come diciamo come degli handicappati a cui magari l'orecchio non funziona molto bene non ci vedono bene per esempio don giussani amava sempre dire che gli atti sono appunto come quelli che hanno il braccino un po' corto magari perché hanno avuto la poliomerite no ecco bene a queste persone secondo me basta rispondere con un po' di buon senso io per esempio non ho certe cose ma non mi sento meno matto non ho l'ids ve lo posso garantire non ho la tubercolosi il fatto di non avere l'ids o la tubercolosi non mi mette affatto in condizioni di sentirmi meno matto quindi posso benissimo vivere senza dio come vivo senza l'ids e senza tubercolosi non sto dicendo che dio è la tubercolosi o l'ids dico che lo fanno diventare dio una malattia coloro che lo usano in nome dei loro sporchi interessi e dio se ammesso che esista sa se non ce n'è in questo nostro povero paese siamo stanchi di metterci in ginocchio noi non amiamo metterci in ginocchio non amiamo metterci né in ginocchio né strisciare per terra né prosternarci né mettere il sedere in aria eccetera eccetera se qualcuno vuol fare liberissimo ma non chiedete di farci perché noi siamo convinti proprio noi che pensiamo nella tradizione di spinozza di cui parlavo prima dell'illuminismo radicale che se non l'abbiamo fatto fino adesso e siamo stati come detto giustamente una volta mio caro amico caro augusto viano laici in ginocchio adesso è il momento di alzarci in piedi e di farli smettere grazie e dunque una vera propria dichiarazione di orgoglio laico diciamo così quella di giorello carcano siamo in chiusura un'ultima domanda dal 2009 voi avete attivato in alcuni ospedali italiani un servizio di assistenza morale non confessionale per i malati ora ovviamente i temi della sofferenza della malattia della morte sono da sempre il grande banco di prova di qualsiasi riflessione intellettuale religiosa e non allora qual è il vostro tipo di approccio a questi temi sì stranamente ci sono sempre negli ospedali assistenti religiosi e nonostante gli ati gli ignostici italiani siano un sesto della popolazione nessuno ha mai pensato che potessero avere bisogno di un'assistenza forse perché sono abituati appunto a cavarsela da soli per tutta la vita però ovviamente ci possono essere anche dei casi in cui necessitano di di un supporto ecco il nostro tipo di assistenza esattamente questo un sostegno a fare in modo che le persone siano in grado di compiere in questi momenti delicati la propria vita le scelte le più consapevoli possibile in linea con la loro storia con le loro opinioni bene noi ci fermiamo qui ho saluto e ringrazio i nostri ospiti a quanti ci hanno seguito come sempre ricordo la possibilità di valersi del nostro sito internet rai parlamento punto rai punto it per rivedere risentire in streaming questa e altre puntate di dieci minuti di grazie per l'attenzione tutti un buon proseguimento di giornata arrivederci grazie 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 grazie